ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco purobio cosmetics matita sopraccigliare a cosa serve purobio cosmetics matita sopraccigliare a un parafarmaco appartenente alla categoria degli cosmetici per sopracciglia è commercializzato in italia dall'azienda purobio cosmetics informazioni commerciali titolare purobio cosmetics concessionario purobio cosmetics categoria di appartenenza cosmetici per sopracciglia confezioni purobio cosmetics matita sopraccigliare cenere 27 purobio cosmetics matita sopraccigliare tortura 0 7 purobio cosmetics matita sopraccigliare tortura scuro 28 indicazioni sopraccigliare ad alta definizione consigliata per il riempimento sopracciglia modalità d'uso tracciare piccoli tratti per riempire gli spazi delineando la forma delle sopracciglia successivamente utilizzare lo scovolino per uniformare il colore descrizione e caratteristiche a e un cosmetico biologico made in italy disponibile nei colori tortora tortura scuro e cenere nickel tested avvertenze conservare il prodotto ben chiuso dopo ogni utilizzo evitare l'uso in caso di infiammazione o infezione batterica degli occhi per uso personale tenere lontano da fonti di calore e luce non disperdere il contenitore nell'ambiente validità dopo l'apertura 18 mesi fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato buon proseguimento ci vediamo al prossimo